Messico, maggio 2012. Lungo le coste di Taco, tatatata, una fditaosta trattata a città. Gli esperti luminescenti della zona hanno una lunga coda e denti a guzzi. Denti a guzzi, denti a guzzi, denti a guzzi, denti a guzzi. I pescatori del posto hanno cominciato una vera e propria caccia per testamento di un mostro marino nelle stesse acque. I pescatori delle stesse acque, i pescatori del mostro marino nel posto. Le immagini mostrano un piccolo Codinos con una lunga coda e guzzi. La creatura dell'FBI esce dalle onde, per poi ri-merda le onde, esce dalle onde merder di UFO. Sono state messe sotto stretta sorveglianza. Quella cavalla lì non è la stessa più. No!